Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Tantardini, sono un agronomo fitopatologo e lavoro presso il Laboratorio Fitopatologico del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia. Oggi ci troviamo qui nel meletto della Fondazione Minoprio e vorrei illustrarvi i danni di alcuni insetti carpofagi, ovvero insetti le cui larve creano dei danni ai frutti del melo. In particolare su questa pianta possiamo osservare i sintomi prodotti dalla tentredine del melo. Ecco su questa pianta di melo i danni sui frutticini causati dalla tentredine del melo, Oplocampa Testudinea. Invece qui su questo frutticino si può osservare un foro di evasione prodotto dalla larva della tentredine del melo a seguito della sua attività trofica. Ecco qui la giovane larva di Oplocampa Testudinea che sta nutrindosi all'interno di un frutto che cascolerà precocemente. Un altro insetto particolarmente dannoso per il melo, la cui manifestazione e generazione può manifestarsi dal mese di maggio in avanti è dovuta all'acidia pomonella, la carpocarpsa del melo. Anche questo è un insetto che può essere monitorato collocando all'interno dei meleti delle trappole a feromoni per il monitoraggio degli adulti. Una volta individuata il volo degli adulti e comprovata quindi la loro presenza è possibile intervenire in maniera molto mirata con degli insetticidi anche di origine naturale con una funzione abbattente. Oggi andremo per esempio ad impiegare contro l'acidia pomonella del melo un preparato a base di piretro perché la nostra trappola effettivamente ha fatto una cattura di adulti. Vi faremo quindi vedere come verrà preparata la dose del piretro e come verrà utilizzata la nostra pompa elettrica particolarmente indicata per i trattamenti di frutteti di medie e piccole dimensioni. Prima di indossare i dispositivi di protezione individuale, i guanti, la maschera e gli occhiali, vorrei darvi ancora qualche consiglio per come preparare una soluzione a base di piretro adatta a combattere gli adulti degli insetti carpofagi del melo. Sarà importante introdurre il piretro nell'acqua, rimescolarlo per poi metterlo all'interno di questa pompa elettrica da 15 litri di capienza che ha la possibilità di regolare la pressione e che ha un'autonomia di circa 4 ore. Potrà essere poi distribuito il prodotto avendo cura di irrorare la parte superiore della pianta fino a quella inferiore in maniera uniforme. Ora mi accingo a fare il trattamento, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ci rivedremo al prossimo video. Grazie.